va ora in onda radio speranza notizie a cura della redazione giornalistica un cordiale saluto a tutti da massimiliano spiriticchio al microfono e da tutti noi di radio speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di pescara penne sono centinaia in abruzzo le persone che complice la crisi dopo aver perso il posto di lavoro non riescono più a pagare le rate del mutuo per l'acquisto della prima casa famiglie che dopo aver pagato il 50 60 o anche il 70 per cento delle rate rischiano di perdere la propria abitazione per motivi che in molti casi non sono imputabili a loro quanto piuttosto alla difficile situazione economica uno stop alla vendita all'asta della prima casa di coloro che vengono definiti morosi incolpevoli arriva grazie a una legge regionale promulgata in questi giorni i richiedenti devono avere reddito isè non superiore a 35 mila euro e devono dimostrare di essere appunto incolpevoli sanità vertice a roma per il rientro dal deficit la regione abruzzo rappresentata dal presidente d'alfonso e dall'assessore alla sanità paolucci ieri a roma per l'importante ed attesissimo vertice al ministero della salute per definire gli aspetti tecnici per l'uscita dal commissariamento all'abruzzo è stata concessa una premialità di 70 milioni di euro per i traguardi raggiunti i funzionari del ministero hanno apprezzato gli sforzi e il lavoro messo in atto approvato il piano sanitario regionale riconosciuti gli adempimenti sui livelli essenziali di assistenza nel prossimo mese di maggio secondo paolucci il governo potrebbe definire l'uscita dal commissariamento da parte della regione continuano i controlli della polstrada sull'asse attrezzato Pescara Chieti riguardanti l'assuperamento dei limiti di velocità anche ieri gli agenti hanno posizionato gli autovelox in diversi punti considerando che da qualche giorno sono in vigore i nuovi limiti di velocità si passa infatti dai 130 km orari ai 110 nel tratto che va dallo svincolo con l'A25 fino all'innesto con la tangenziale di Pescara e a 90 km orari nei pressi degli svincoli il limite scende a 70 nei pressi della rampa per il porto di Pescara nel pomeriggio di ieri dopo una settimana di discussione in consiglio comunale a Pescara la delibera sull'introduzione della tassa di soggiorno è passata con i voti della maggioranza le risorse serviranno unicamente per attuare le azioni inserite nelle linee guida del piano marketing strategico della città di Pescara assicura l'assessore Cuzzi la cronaca la Corte di Cassazione ha confermato la volontarietà ma ha annullato l'aggravante della premeditazione rinviando alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia per la rideterminazione della pena a carico di Massimo Ciarelli riconosciuto colpevole dell'omicidio di Domenico Rigante il 24enne ultra del Pescara ucciso con un colpo di pistola la notte del 1 maggio 2012 in un appartamento della città adriatica pene confermati invece per i complici Luigi Ciarelli condannato a 16 anni di reclusione e Domenico, Angelo e Antonio Ciarelli condannati a 13 anni di carcere ciascuno tutti per omicidio volontario perquisizioni da parte della Digos nella casa dove viveva Ibrahim El Mansuri il presunto jihadista espulso lo scorso 25 maggio perché ritenuto una minaccia per la sicurezza dello Stato il provvedimento fa seguito a un'indagine della Procura della Repubblica di Torino coperta dal segreto istruttorio lunedì mattina gli agenti della Digos artificieri con cani anti-esplosivo e un'unità di cinofili hanno passato a setaccio la casa San Martino dove l'uomo viveva con moglie e figli estranei ai fatti controllati anche il suo furgone e i campi vicino casa da quanto trapelato la perquisizione avrebbe dato esiti negativi l'amministrazione comunale di Montesilvano concede il patrocinio permanente alle iniziative di carattere religioso più rappresentative della città che si svolgono di anno in anno sul territorio lo prevede una delibera di giunta approvata ieri con il patrocinio permanente che è previsto per questi eventi la festa in onore del santo patrono della città di Spoltore e San Panfilo Vescovo la rievocazione storica della Madonna del Popolo le sacre rappresentazioni della Natività e della Madonna che corre le feste in onore dei santi protettori delle singole frazioni quali Santa Teresa d'Avila San Camillo dell'Ellis i santi Cosmo e Damiano San Filippo Neri e la Santissima Maria Assunta e i festeggiamenti in onore dei santi protettori delle contrade come San Giacomo a Cavaticchi Santa Lucia in contrada Santa Lucia tra Spoltore e il capoluogo Santa Teresa naturalmente parliamo di un patrocinio del comune di Spoltore oggi è mercoledì 20 aprile la direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon anniversario di ordinazione sacerdotale a padre Fabrizio Di Fazio e siamo alle previsioni del tempo oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa nubi sparse fino a metà mattino cielo sereno in tarda mattinata nubi sparse nel primo pomeriggio è cielo sereno nel resto della giornata con temperature da 12 a 18 gradi e venti moderati e nelle zone interne cielo sereno fino a metà mattino nuvoloso in tarda mattinata sereno nel pomeriggio e da poco nuvoloso a nuvoloso in serata con temperature da 11 a 18 gradi e venti moderati il mare è previsto da calmo a poco mosso ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne grazie a risentirci abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica a cura della Chiesa metropolitana di Pescara Penne